Si è svolta a Bari l'udienza preliminare dinanzi al gruppo del Tribunale di Bari Rosa Anna De Palo per la richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero Isabella Ginefra nei confronti dei 16 dirigenti e manager di Unicredit, tra cui la D. Federico Ghizzoni e il suo predecessore Alessandro Profumo per l'accusa di bancarotta fraudolente in merito al crack della società barese di Vania che fino a pochi anni fa contava 430 dipendenti un fatturato di assoluto rispetto. Secondo il PM Isabella Ginefra che ha coordinato le indagini la banca avrebbe indotto Parisi, proprietario dell'azienda, a ritenere di essere debitore nei confronti di Unicredit anziché creditore in quanto vittima delle indicate operazioni in derivati del tutto truffaldine e dell'appropriazione in debita di ingenti somme pari a oltre 183 milioni di euro. I funzionari della banca avrebbero quindi indotto l'imprenditore a costituire la società Parco Don Vito impegnandosi ad acquistare senza averne la disponibilità economica l'immobile dove aveva sede di Vania nella zona industriale di Modugno al costo di 28 milioni di euro a fronte di un capitale sociale pari a 13 mila euro e a un mutuo ottenuto dalla stessa banca di 10 milioni di euro. Operazioni dal compimento delle quali scrive la procura di Bari nell'imputazione derivava il dissesto e il conseguente fallimento della società avvenuto nell'ottobre 2012. Per questa vicenda rischiano il processo Mario Aramini nella sua qualità all'epoca dei fatti di direttore generale dell'Unicredit Banca d'Impresa Alfredo Prutino responsabile della direzione regionale centro-sud di Unicredit Francesco Conte Duca responsabile erogazione crediti Giuseppe Cittadino procuratore speciale Luigi Boccadoro responsabile della filiare Bari Centro di Unicredit Anche oggi, come purtroppo avviene da tempo, gli ex dipendenti della Divania che sono a tutt'oggi senza lavori disperati erano fuori dalla procura a manifestare assistiti dalla filca Cisle di Bari Noi ci stiamo costituendo anche oggi in questo nuovo processo come parte civile siamo fiduciosi nella magistratura che ammetta la nostra costituzione a parte civile perché rappresenta per noi l'ennesima battaglia che facciamo come organizzazione sindacale contro lo strapotere bancario e finanziario che rappresenta un po' lo spaccato della nostra società di oggi e anche a discapito di chi pensa che il sindacato sia un soggetto passivo